Ciao a tutti, oggi prepareremo la crema spalmabile al tonno tipo spuntì. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono acqua, sale, tonno sott'olio sgocciolato, patate, capperi e pasta d'acciuga. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale l'acqua, il sale, il cestello con le patate ed azioniamo il bimbi per 25 minuti, temperatura varoma, velocità a 2. Le patate sono cotte, lasciarle raffreddare e svuotare il boccale. Le patate si sono raffreddate. Adesso mettiamo nel boccale il tonno, la pasta d'acciughe e i capperi. ed azioniamo i bimbi per 30 secondi a velocità 9. Unire sul fondo del boccale con la spatola. Azioniamo nuovamente il bimbi per 10 secondi a velocità 10. Unire nuovamente sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere le patate ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 10. Unire sul fondo del boccale con la spatola ed azioniamo il bimbi per 20 secondi a velocità 10. La crema è pronta, trasferiamola in vasetti con chiusura ermetica. Crema spalmabile al tonno tipo spunti, ideale per condire crostini o da spalmare sul pane. Si conserva in frigo per 5 giorni chiusi in contenitori ermetici. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!